Al di Vittorio di Scerni turno casalingo per il Real San Giacomo che prosegue il suo tour de force considerato che nell'arco di otto giorni si appresta alla terza gara di fila senza contare il recupero di mercoledì prossimo con il Real Montazzoli. È necessario quindi muovere la classifica per uscire dalla zona play-out, avversario di turno il Guastameloli che invece cerca e lascia passare per agganciare la griglia a play-off. Sono gli ospiti a partire subito in avanti con l'insidioso traversone al centro di Campitelli che non viene sfruttato da alcun compagno del reparto più avanzato. Al dodicesimo gli Orange sono ancora pericolosi ma dall'altro versante con lo spiovente al centro che anche in questo caso non viene sfruttato a dovere dal reparto avanzato in particolare da Rossi che non riesce ad agganciare da distanza ravvicinata. L'undici di casa non corre grossi pericoli in realtà ma lascia inizialmente il pallino del gioco agli avversari che si producono al diciannovesimo in una nuova offensiva con Lucio Sabatini che sbroglia la meno peggio sull'appostato Angelucci. L'undici del presidente Giacomucci si scuote dal torpore avvolgente delle battute iniziali e comincia ad avanzare progressivamente dalle parti di Di Rico costretto a capitolare al primo vero affondo dei Biancoverdi. Il Real San Giacomo sblocca infatti il risultato al minuto 32 grazie all'apertura di Mister Praino per Romiglio che si accentra dalla sinistra e dal fondo somministra un pallone invitante per la corrente Antonino sporcato dalla fortuita deviazione di un difensore avversario che si infila alle spalle del malcapitato portiere del Guastameroli. L'undici guidato da Sassapraino recrimina poco dopo per un fallo di mani in aria di un difensore ospite che intercetta un tiro dalla bandierina dello stesso tecnico di casa. Per il signor Cavacini di Lanciano non vi sono i presupposti per l'assegnazione del calcio di rigore. E dal possibile raddoppio del Real si passa invece al pareggio del Guastameroli che diventa cosa fatta al minuto 41 e Rossi a infilare Lucio Sabatini con un diagonale rasoterra dal vertice d'aria piccola che va a spegnersi nell'angolino alla sinistra dell'estremo Biancoverde. E con il risultato di parità si va dunque a riposo. Alla ripresa dei giochi il Real parte subito col piede pigiato sull'acceleratore con il chiaro obiettivo di far suo l'intero bottino. Al quarto Praino prova a perforare la retroguardia avversaria con uno dei suoi micidiali piazzati dal limite sul quale interviene un difensore del Guastameroli ad allontanare a ridosso della linea di porta. Al dodicesimo gli sforzi dei locali vengono premiati con il nuovo vantaggio autografato stavolta da Sabatini che raccoglie l'invitante e suggerimento del nuovo entrato Orunesu e non ci pensa due volte per scagliare il pallone alle spalle di Dirico da distanza ravvicinata. Occhi al cielo per il 10 di casa e dedica speciale per un amico che non c'è più. Non è finita perché due minuti dopo arriva il tris della tranquillità con i ruoli che si invertono. Stavolta è Sabatini che dalla metà campo verticalizza per Orunesu il quale si accentra e dal limite d'aria lascia partire una conclusione che si rivela imprendibile per Dirico scavalcato e battuto per la terza volta. L'11 di casa ormai galvanizzato continua a insidiare la retroguardia arancione con un paio di interessanti iniziative. Al ventesimo Mr. Praino imbecca Sabatini che si invola sul corridoio di sinistra e poi cerca di appoggiare al centro per la corrente Antonino providenziale in questo caso la chiusura di Angelucci che dà una grossa mano al proprio portiere. Due minuti dopo i locali sparano le ultime cartucce con lo scatenato Orunesu che dalla destra semina due avversari e indirizzo al centro per l'appostato Antonino il quale riesce a calciare in porta ma Angelucci ancora una volta providenziale sulla linea di porta per limitare i danni con Dirico ormai battuto. Il Real allenta la briglia e lascia spazio nel finale alla reazione del Guastameroli che prova in vano a raddrizzare il risultato. Al trentaduesimo Jarlori entra pericolosamente in area eludendo diversi avversari ma non Sabatini che allontana con i piedi. Al trentasettesimo buona azione corale del Guastameroli con l'apertura di sgrignoli per Campitelli che dalla destra indirizza subito al centro per Jarlori il quale raccoglie la sfera dopo la deviazione di Fruguglietti ma non ha la necessaria lucidità per mantenere bassa la sfera che invece si alza sopra i legni. L'ultimo acuto degli ospiti si manifesta al trentanovesimo con lo stesso sgrignoli che stavolta è uomo assist ma il reparto avanzato del Guastameroli privo di pedine fondamentali si dimostra spuntato e poco incisivo. Anche oggi purtroppo è andata male, la squadra è un po' timorosa a livello di classifica perché purtroppo gli obiettivi erano ben altri, purtroppo falciliati un po' dagli infortuni e da qualche squalifica di troppo e quindi ci troviamo adesso anche oggi a parlare di una brutta brutta prestazione della squadra. Cercheremo un po' di migliorare in settimana cercando di lavorare e di ascoltare un po' forse meglio le indicazioni del nostro mister. Vediamo un po', proveremo domenica prossima a rifarci subito con il derby della Marcenese, recupereremo qualcuno, sicuramente qualcuno di importante soprattutto lì davanti perché senza tre punti di riferimento è abbastanza dura andare avanti così perché creiamo molto ma riusciamo a realizzare poco. Niente, il Real San Giacomo è una buona squadra, in casa fanno sempre i loro punti perché chiaramente forse solo con qualche individualità importante però giocano benino, rischiano poco dietro e quindi hanno fatto la loro partita e giustamente hanno vinto oggi. Oggi è stata una partita, sapevamo che era una partita dura contro una squadra già con un sistema di gioca ben solido dall'anno scorso ho avvertito i ragazzi che era una squadra dal punto di vista fisico molto forte, di fatto abbiamo preso gol su calcio piazzato del resto noi pensiamo a fare un bel campionato cercando di fare una salvezza anche se dovesse arrivare tramite per l'out non è un problema per noi l'importante è che valorizziamo alcuni ragazzi, anche oggi eravamo con 3, 4, 94, 95 poi abbiamo il Rosa, ragazzi che l'anno scorso giocavano anche in terza categoria che hanno portato una realtà di prima ma con entusiasmo ci danno anche una mano è un ambiente tranquillo e sembra una contrada il San Giacomo quindi oggi per noi è stata una bella soddisfazione comunque incontrare una squadra che rappresenta una piccola cittadina Ci ha pensato lei a portare questi giocatori dal terza categoria qui in prima? Sì, 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 io in virtù dell'esperienza calcistica ho maturato negli anni penso che l'entusiasmo possa portare anche un ragazzo che viene da una categoria inferiore ma che è importante che ha un fisico idoneo, penso che può dare una mano in queste categorie poi non c'è bisogno di avere 11-12 giocatori bravi quelle sono altri organici che hanno un altro obiettivo nelle squadre che lottano per retrocedo e vogliono fare bei campionati io penso che bastano 5-6 elementi di esperienza poi magari gli altri bastano ragazzi che fisicamente stanno in posta e che danno una mano dal punto di vista della corsa non mi faccio di questi problemi Quindi i cambi che sono in panchina non sono ben visti? No, no, sono ben visti come sono cambi, io sono tranquillo quando faccio dei cambi so che non ho gente di esperienza in panchina però so che ho dei ragazzi che hanno un entusiasmo nel correre quindi non è che mi possa aspettare chissà che anche perché, ripeto, le squadre che devono vincere i campionati magari allestiscono un organico come ha fatto il Guastameroli che oggi aveva squalificato il capo cannoniero da Mario poi c'era Dubu di Bucchiani con altre gente di Camillo in panchina quindi per me e per i ragazzi è un obiettivo importante quando si batte una squadra del genere io la penso così anche perché quest'anno il mio presidente che compone una piccola realtà calcistica e lui è un altro socio quindi si bade ai costi, sono minimi ti ripeto, facciamo questo campionato all'insegna dell'entusiasmo e si va avanti Per quanto riguarda gli allenamenti tutto regolare oppure si fa fatica? Ecco appunto, ecco perché mi riallaccia il discorso di prima gli allenamenti a volte diventano facoltativi nella mia realtà magari chi studia, chi è ad esempio Oroneso quello che è subentrato e ha fatto quel grandissimo gol un ragazzo che mi torna solo il venerdì dall'università quindi non è che è un ragazzo su cui io posso lavorarci una settimana quindi per me è già una grande soddisfazione vedere ragazzi che entrano con l'entusiasmo giusto perché ripeto, per gli obiettivi più importanti comunque bisogna lavorare con una squadra intera durante gli allenamenti io non lo posso fare ma sono contento uguale Volevo ringraziare la squadra per questa vittoria e dedicarlo a Daniele un amico che è scomparso una settimana fa è tutto per te questa vittoria ti voglio bene amico mio